Con il progetto I Love Shopping a Città di Castello non ci saranno più barriere per le necessità della vita quotidiana come fare la spesa, comprare medicinali, tagliare i capelli o mangiare al ristorante. Chiunque abbia difficoltà linguistiche, in primis le persone con disabilità cognitiva, comunicativa e relazionale, ma anche bambini, anziani e persino stranieri, potrà concludere acquisti di beni di consumo e utilizzare servizi senza alcun problema, componendo semplicemente una frase su una stringa adesiva con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa scelti su un quaderno in dotazione ai commercianti. Il ragazzo entra nel negozio, chiede il quaderno al commerciante che glielo mostra e lui sfoglia le pagine e ad esempio compone la frase togliendo questa tesserina, voglio, kiwi, compila questa adesso la faccio brevemente, questa striscia la consegna al commerciante che gli dà il prodotto richiesto. Poi abbiamo realizzato questo QR code che sarà sempre esposto nelle vetrine e che sarà anche presso la nostra ufficio turismo dove inquadrando con lo smartphone questo QR code sarà possibile avere l'elenco dei 26 esercizi commerciali che hanno aderito e attraverso Google Maps raggiungere il luogo desiderato con un percorso tracciato che compare sullo smartphone.